Infatti avremo questa collaborazione molto bella sia con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese sia con il Banco Alimentare Abruzzo, quindi questo giro di concerti ha tutto per unire sia il significato musicale, la bellezza dei brani, che sono tutti brani molto popolari, molto conosciuti, che rappresentano un po' la storia degli ultimi 60 anni della popular music, unita all'impegno sociale che è testimoniato sia da molti dei testi presentati nel repertorio ma soprattutto da questa collaborazione con il Banco Alimentare e con l'Orchestra Sinfonica che vede l'organismo prestigioso, classico della nostra regione, vede la collaborazione anche con invece un gruppo di giovani che è il Medit Voices e il Contemporary Vocal Ensemble. Insieme presenteranno un repertorio che nello stesso tempo è molto popolare ma anche molto elegante e raffinato proprio perché nasce da questa idea di unire due mondi diversi tra di loro ma che si integrano in questa proposta in maniera splendida. Questo concerto del 27 dicembre è una bellissima occasione per ascoltare veramente una musica di qualità con un coro dei professionisti veramente bravi. Noi li conosciamo da tempo e perciò abbiamo subito accettato questa proposta che è una proposta che ci coinvolge totalmente in questa iniziativa che hanno scelto noi anche per dare a noi la possibilità di raccogliere fondi che sono sempre utili e fondamentali per portare avanti la vita di ogni giorno nel Banco Alimentare. Quindi il nostro è un invito che facciamo a tutti di poter partecipare anche se in questo periodo ci sono tantissime iniziative nella nostra città, in Abruzzo ma il nostro è un invito che è fatto sia sulla qualità, sulla bellezza della musica ma anche sulla possibilità per ciascuno di continuare a sostenere il Banco Alimentare.